Sono le 21.06, l'Italia settentrionale viene sconvolta da un violento terremoto percepito sino a Roma. Nelle province di Udine e Pordenone il sisma raggiunge magnitudo di 6.4 della scala Richter, pari al 9 decimo grado della scala Mercalli. L'area più colpita è quella a nord di Udine, epicentro sotto il monte Simeone vicino a Venzone. Il bilancio parla di 1.000 morti, 100.000 sfollati, 18.000 case distrutte, 75.000 case seriamente danneggiate, 45 comuni rasi al suolo, tra loro Osoppo, Gemona, Buia, Venzone, appunto. Danni anche nella vicina Valle dell'Isonzo in Slovenia. Le operazioni di soccorso sono immediate, vengono mobilitati 13.000 uomini dei corpi che fanno riferimento ai ministeri della difesa e degli interni, migliaia anche i volontari. L'Europa e il mondo intervengono con generosità. Gli Stati Uniti stanziano 100 milioni di dollari. La RAI per la prima volta è indiretta dal luogo del cataclisma e trasmette le immagini dei soccorsi.